Good morning Milano! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, come state? Come va? Come siamo messi questa mattina? Cosa stiamo facendo di bello? Cosa avete in programma e che cosa volete fare appunto in questa giornata? In questo martedì 12 novembre sono le 7.09, qui la mattina inizia presto su Crystal Radio, ma so che molti di voi sono già in giro per la città, in questa città che oggi si è risvegliata leggermente più calda rispetto al primo fa un freddo pazzesco comunque, fa freschino, un paio di gradi in più rispetto alla mattinata di ieri che forse è stata quella una delle più fredde degli ultimi giorni, ma insomma ieri di giorno si stava anche abbastanza bene poi da sera ovviamente arriva il frescolino per non dire il freddo e poi appunto la mattina svegliarsi e uscire da sotto il piumone non è semplice, lo so, io sono qua per cercare di fare in modo che questa transizione avvenga nella maniera meno traumatica possibile, lo facciamo come? Con la musica di Crystal Radio, con le informazioni che vi diamo dai giornali locali che sono già pronti qui davanti a me e anche con gli ospiti, oggi avremo ben, oggi tre ospiti va detto la mia produzione Beatrice, abbiamo tre in studio oggi, adesso infatti abbiamo voluto soppalcare un attimo qua perché non c'era tanto spazio, ma insomma troveremo il modo di farvi raccontare anche oggi dai protagonisti delle storie che troviamo qualcosa appunto che vi possa ispirare e che vi faccia sempre di più amare questa giornata e questa giornata, ma soprattutto questa città Britney Spears, baby one more time 714 minuti, Crystal Radio, good morning Milano 3317853555 il nostro numero di Whatsapp che potete appunto usare per condividere con noi tutto quello che volete fare questa giornata o quello che avete fatto nei giorni scorsi oppure anche semplicemente per salutarci come ha fatto ad esempio Alberto che dice buongiorno a tutti gli amici di Good Morning Milano a chi ascolta e a chi la prepara e conduce c'è una nuova presenza maschile oggi in redazione ha visto che non si perde niente ha visto la webcam che abbiamo sulla redazione che vanno appunto durante le canzoni in radio voi ascoltate la musica le canzoni sulla parte video invece vi facciamo vedere un po' il dietro le quinte e appunto in redazione si c'è Giuseppe che ha un nuovo arrivo, è uno studente che è qui con noi qualche giorno adesso anzi è già la sua seconda settimana quindi è già un veterano qua dentro e quindi sì, sta imparando questo mestiere ci dà una mano, ci dà un aiuto e lo fa appunto in regia adesso insieme a Beratrice poi arriverà anche a Ginevra insomma con tutto quello che sappiamo essere il progetto formativo ed educativo che abbiamo dietro le quinte di Good Morning Milano che voi appunto sentite in radio ascoltate, vi divertite con la nostra musica seguite le informazioni ascoltate le interviste ma dietro c'è tutto un lavoro appunto perché cerchiamo almeno cerchiamo di insegnare un mestiere un po' come si faceva una volta a bottega con il calzolaio, con l'idraulico col prestineo ecco noi magari non siamo così bravi in mestieri del genere ma cerchiamo appunto in quel poco che sappiamo di comunicazione, di radio di televisione, di montaggio di video, di creazione di contenuti insomma cerchiamo appunto di dare una mano a questi ragazzi che hanno deciso di fare della comunicazione, della radio in alcuni casi e della televisione il loro futuro e quindi sì quello che vedete appunto dall'altra parte è proprio lui, Giuseppe poi c'è Beatrice poi sono tutte le altre ragazze che appunto arriveranno questo pomeriggio qui appunto all'interno del nostro studio umano cosa abbiamo potuto chiamare qua in quel di San Siro lo studio 2 di Crystal Radio noi siamo ben contenti di trasmettere tutti i giorni in diretta qui verso la nostra madre radio che è appunto quella che invece ha il suo storico mitico studio in quel di Ludovico Almoro sul Naviglio storico nomi storici lo studio umano lo storico studio lo studio 2 sono solo nomi come potrebbe essere solo un nome quello che si potrebbe dare all'aeroporto di Malpensa sapete benissimo che l'aeroporto di Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi ma da quel giorno che fu l'11 luglio se non ricordo male più o meno il 5 luglio scusate il 5 luglio chiunque ha letto la sua e si è cercato di bloccare tutto questo arriva però un stop definitivo alle proteste da parte di chi? del Tar perché è aeroporto di Malpensa leggo da Corriere della Sera Milano aeroporto di Malpensa intitolato Berlusconi il Tar boccia l'istanza di sospensione del Comune di Milano Salvini dice grande soddisfazione la sentenza dei giudici amministrativi l'itere è corretto non ravvisiamo pregiudizio e quindi il Tar della Lombardia ha bocciato l'istanza del Comune che chiedeva una sospensione in via cautelare dell'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi quindi così sembra l'intitolazione a Malpensa aveva fatto appunto rotta al Tribunale Amministrativo lo scorso settembre quando il sindaco di Milano Beppe Sala aveva annunciato l'impugnazione che però appunto il Tar boccia e quindi dovremmo cominciare a pensare di chiamarlo davvero aeroporto Silvio Berlusconi tempi strani tempi tempi strani Lizzo About Them Time circa circa questi dannati tempi così si potrebbe chiamare credo questa sia la traduzione corretta comunque allora sono che ore sono che ore sono 7.20 7.20 abbiamo qui un po' di giornali davanti ieri sera è successo di tutto in consiglio comunale perché perché si è parlato di San Siro ancora si è parlato di San Siro e insomma la protesta è montata forte tra chi era presente in consiglio comunale scusatemi stavo prendendo dei vari oggetti qui sul tavolo dicevo è montata la protesta soprattutto da una parte del pubblico in consiglio comunale per via del 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 rapporto diciamo ha parlato il sindaco finalmente sul discorso dello stadio ha detto ha fatto un iter ha ripercorso tutte le tappe che dal 2019 ad oggi hanno portato prima appunto alla decisione del dibattito pubblico e poi adesso all'idea di vendere alle squadre e insomma il pubblico una parte una cinquantina di persone presenti nel pubblico non ha risposto proprio bene ecco questa è stata la risposta fischietti cartellini rossi alzati i vigili urbani che poveretti due vigili tre vigili che provavano a togliere cartellini rossi a queste persone ma che giustamente anche loro non saperono cosa fare questo è stato appunto vergogna fischi insomma questo è stato il clima in cui si è svolta una piccola parte appunto del consiglio comunale di ieri trovate appunto in rete in questo caso su Milano Today sto prendendo appunto il video lo trovate insomma i comitati ma non solo i cittadini non è che fossero proprio amici di questo report che hanno ricevuto da parte del sindaco il tema qual è però il sindaco dice le squadre piuttosto che strutturare preferiscono andarsene quindi dobbiamo trovare un'altra soluzione quindi vendiamo l'attuale stadio San Siro con il vincolo però di non buttarlo giù e diamo la concessione della costruzione di un altro stadio di fianco a quello beh non ci sta molti cittadini non ci stanno lui dice però attenzione abbiamo difeso l'interesse pubblico perché questo che dice Sala Sala ha difeso nella redazione l'operatore della giunta e dice non è vero che non si è fatto niente abbiamo difeso l'interesse pubblico abbiamo dato un indice che prima era lo 0,63 poi si è scesi allo 0,51 e per poi scendere di nuovo a quello giusto del PGT a 0,35 quindi lui rivendica come della giunta e sue queste modifiche ovviamente i cittadini dicono no quelle modifiche che comunque a noi non bastano sono state fatte perché noi abbiamo fatto pressione perché abbiamo fatto le richieste perché abbiamo chiesto il dibattito pubblico quindi insomma è veramente ancora lunga secondo me la strada ormai la strada sembra segnata ma questa frase dal 2019 ad oggi l'ho già detta almeno 20 volte ormai sembra segnato il destino di San Siro ormai sembra segnata la strada e in tutto questo vi ricordo che nel 2026 a febbraio 2026 lì dentro nello stadio di San Siro ci sarà l'inaugurazione la manifestazione di inaugurazione la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2026 quindi come la mettiamo facciamo un'inaugurazione con fuori un cantiere come sarà da riordinare lo stadio di San Siro poi ok costruiamo quello nuovo di fianco ovviamente non possiamo attaccare quello vecchio perché continuiamo a dire che non si può fare nulla durante le partite il campionato Olimpiadi no quindi cosa succederà io so solo che stanno nato comunque il Milan continua a tenerselo lì chissà non è semplice questa situazione per niente e questi erano gli Alphaville con Forever Young beh direi che non c'è sigla migliore canzone migliore per dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi perché davvero lei Forever Young Giuseppina Rosco buongiorno buongiorno caro direttore Fabio eccoci qua allora Giuseppina devo prima di tutto dobbiamo dare una notizia per me è un po' triste però avrei avuto le tue buone ragioni e quindi anzi ti appoggiamo in questa scelta dopo quanti anni ormai che andava tre anni dopo tre anni di notiziario il notiziario di Giuseppina Rosco che era un giornalino un flyer un ottimo strumento sì è un ottimo strumento per conoscere per sapere cosa succedeva nella zona per sapere di più cosa succede nel municipio nel comune però ci sono delle criticità che non si potevano più risolvere però grazie allora prima di tutto per aver fatto questi tre anni davvero voce della città della città ecco però subito appena chiude appena lei chiude il computer per dire tac infatti allora ci sentiamo al telefono giusto Giuseppina ci sentiamo al telefono vi voglio parlare del progetto Centidee un progetto che il comune di Milano sta organizzando già strutturato con le associazioni che operano sul territorio lanciando la campagna proprio Centidee una iniziativa che è dedicata ai ragazzi e alle ragazze di età tra i 14 e i 18 anni che nasce proprio con lo scopo di coinvolgere i ragazzi nella progettazione di idee di iniziative e di attività che sono individuate proprio per la loro età e che devono avere poi una ricaduta sul loro territorio addirittura il comune per queste attività prevede anche il supporto dei cosiddetti facilitatori cioè quelle persone che avendo strumenti operativi anche di idee possono aiutare i ragazzi a mettere in pratica le idee a supportarli nella progettazione e soprattutto ad aiutarli una volta che saranno selezionati alla realizzazione che avverrà tra il 2025 e l'inizio del 2026 come si arriva a questi progetti o a questa opportunità si intanto stanno già facendo delle iniziative nelle scuole per pubblicizzare questa opportunità si può collegare al CAC che è il centro di aggregazione giovanile che c'è in ogni municipio in particolare nel municipio Re e la cosa ancora più interessante è dove questi progetti saranno collocati come storia come animazione come progettualità Lab Rizzoli che è già una realtà molto particolare dove ci sono già molte realtà associative il campo teatrale che è uno delle esperienze teatrali più coinvolgenti del municipio e soprattutto il parco della Lambretta che è quello che sorge al collegamento con Rubattino e il nuovo polo che si sta estendendo tra la zona di Rubattino e se grazie del decisio questa cosa qui è molto interessante perché finalmente non si parla solo di diamo l'opportunità ai giovani ma diamo le opportunità con anche degli aiuti non solo economici ma anche di persone competenti che lavorano con i ragazzi stessi e questo ci daranno anche loro notizie su come va su come non va ma sicuramente è un'attenzione molto particolare Giuseppina quindi ci saranno delle associazioni delle persone dei professionisti che diventeranno tutti gli effetti dei tutor per aiutare le idee di questi ragazzi esatto a questa esperienza che tra l'altro essendo un'età molto particolare 14-18 anni sicuramente ha un effetto psicologico per i ragazzi ma anche di cominci a fare anche io qualcosa per il mio futuro dal mio territorio dalla mia società e dal mio stile di vita ecco questo è molto importante invece un'altra attenzione questa completamente diversa ma che qualifica il municipio 3 il municipio 3 ha organizzato uno sportello informativo e di supporto per future mamme e neogenitori non solo le mamme ma le mamme e i futuri genitori perché la genitorialità non è una cosa assestante è un progetto che coinvolge le persone dove si tiene questo sportello le persone come fanno a rivolgersi possono rivolgersi al centro Milano Donna di via Narni 3 che è sempre collocato in zona Rizzoli ogni mercoledì dalle 9 alle 13 oppure il giovedì pomerito dalle 15 alle 19 nella sede del municipio in via San Sovino 9 due punti strategici uno più centrale uno collocato nella zona Rizzoli che come vedi ritorna sempre perché è una una situazione in divenire molto positiva che ha sofferto anni di abbandono ma che grazie a questi ultimi non solo quest'anno ma anche negli anni precedenti sicuramente può ottenere risposte positive per le loro difficoltà insomma l'attenzione su una zona così importante è giusta ne è un'altra Giuseppina? un'altra si si chiama progetto di musica urbana diffusa cosa vuol dire? si ripresentano i diciamo i pezzi da 90 della storia del film in questo caso è il film Miracolo a Milano che ricordiamo tutti il giorno 13 novembre alle ore 18 presso l'auditorium del municipio 3 in Viettava Varsoli Peroni viene proiettato questo film ma ci sarà anche una mossa permanente presso la biblioteca di Lambrate quella collocata proprio nelle vicinanze per capitalizzare sia la storia sia i momenti di questo film e la storia parallela legata proprio alle vicende di questo film che ancora oggi merita un'attenzione e una riflessione molto particolare è un'iniziativa che vede il municipio 3 circolati circolo molto presente nella nella politica sociale del municipio e soprattutto Book City che è ormai un colosso nella formazione culturale e da ultimo per darvi un'ultima idea vi dico anche che sabato 16 novembre alle ore 20 e 30 presso il teatro San Giuseppe di Viareti 21 la compagnia teatrale Alma Rosè un'altra un altro bel pezzo di storia teatrale presenta sempre sul lato della genitorialità uno spettacolo come rilettura femminile nel mondo di madre e figli in particolare figli adolescenti del nostro tempo perché questo? è un tema difficile questo è un tema molto difficile questo però ti dà la dimostrazione che il municipio non ha una particolare linea interpretativa però offre le opportunità di riflessione a tutti coloro che vogliono conoscere le opportunità e con questo credo di avervi detto le cose più importanti l'ultima ve lo dico stanno dal punto di vista della mobilità sistemando il marciapiede della carreggiata che riguarda la zona di Corso Buenos Aires in particolare dalla via Petrella a via Pergolesi questi lavori dovrebbero concludersi per la fine di dicembre e speriamo che i problemi anche legati alla mobilità con questo intervento si possano risolvere perché la zona è francamente molto particolare lì la mobilità impatta in maniera forte in quella zona bene Giuseppina lo dico a chi ci sta ascoltando da casa questo è ciò che mi piace di Giuseppina la nostra inviata di quartiere la nostra inviata nella zona la nostra inviata appunto che appunto lei oggi ha chiamato il municipio 3 ma niente vieta di trovare altri inviati di quartiere che magari nei prossimi giorni ci potranno raccontare quindi se siete anche voi inviati di quartiere potete scriverci al 331 7853 555 e dire guarda che io sono della maggiolina sono tutto vi racconto io e vi dico tutto quello che è succedendo qua perfetto noi ci colleghiamo anche con voi Giuseppina tu devi essere di ispirazione per gli altri inviati di quartiere grazie molto gentile noi ci aggiorniamo martedì prossimo alle 7 e mezza benissimo a presto Giuseppina grazie un abbraccio Giuseppina Rosco anche ai nostri ascoltatori bravissima Giuseppina grazie mille andiamo con un po' di musica questa era la nostra inviata di quartiere nel municipio 3 Giuseppina Rosco potete essere anche voi appunto un inviato basta scriverci 331-78-53-555 ciao Giuseppina a martedì prossimo ciao ciao Donna Summer I feel love 7 e 49 minuti o comunque davvero non stavamo scherzando cioè se voi che siete in ascolto volete fare i nostri inviati di quartiere beh noi abbiamo altri 4 giorni disponibili perché il martedì c'è Giuseppina Rosco dal municipio 3 però se volete un'altra telefonata con un altro municipio lo facciamo quando volete un quartiere anche solo una via cioè ciao io sono l'inviato di via Quarto Cagnino va bene lo facciamo senza problemi va bene noi ci siamo comunque va beh 7 e 50 minuti Giuseppina ci ha raccontato appunto di questa mostra che faranno con il sul Miracolo a Milano ecco Miracolo a Milano il dietro le quinte del film culto di De Sica e Zavattini saggi critici ad entro di foto d'epoca per colare i 50 anni della morte del regista e il libro Miracolo a Milano parole immagini immaginari svela come il cinema è diventato mito si esce anche un libro ovviamente questa settimana inizia Book City e quindi Andrea De Sica che è nato nel 1981 30 anni dopo l'uscita del film di suo nonno Vittorio ne conserva per racconti e leggende tramandate in famiglia sono sue le parole che fanno da prefazione a Miracolo a Milano parole immagini immaginari il libro fresco di stampa di Olligo editore che raccoglie saggi critici ricordi personali aneddoti sulla lavorazione e fotografie di scena ed autore per ravvivare la memoria di un film capitale dell'immaginario nazionale in bilico come è tra neuralismo e fiabe soprattutto ovviamente nella storia e nell'idea di una città come Milano operosa e opulenta ma anche in grado di dare dignità e attenzione a chi stenta a sbarcare lunario almeno così era settant'anni fa appunto cinquant'anni dopo la morte no scusate dopo l'uscita trent'anni dopo l'uscita del film sui vittori nell'ottant'uno quindi insomma stiamo parlando ovviamente di settant'anni fa settant'anni dopo l'uscita di questo film Milano lo vuole ancora ricordare vuole comunque ricordarlo con abbiamo detto una mostra un libro insomma sarà l'anno giusto per ricordare un film cult se andate su Repubblica Milano da cui ho letto appunto queste righe scritte da Simona Spaventa trovate anche già per farvi capire l'andazzo del libro e che cosa può aver significato che cosa è soprattutto Miracolo a Milano per quello che è non solo appunto la nostra città ma la filmografia in generale potete trovare una foto bellissima di una piazza Duomo che molti di voi non hanno neanche visto e molti altri invece sì quella piazza Duomo che aveva tutti quei cartelloni pubblicitari sui palazzi proprio di fronte al Duomo ecco potete trovare questa foto dove si vede in gergo tecnico un Dolly Crane quindi è una sorta di gru su cui viene montata una telecamera con gli operatori di ripresa e molto probabilmente anche il regista sembrerebbe visto di spalle e davanti appunto lo skyline degli anni che furono di questa di questa piazza che era un po' come la Piccadilly Circus di Londra c'è tante tante insegne luminose che illuminavano la città e che erano proprio anche simbolo di questa Milano così un po' particolare che era tra parentesi interessante vedere come alcune delle pubblicità che ci sono sono di cose che non esistono più completamente cioè proprio niente finite non si sa più cos'è c'è un'isola bella bellissima c'è il Vovo il Vovo esiste ancora credo e poi si intravede un Coca-Cola quello c'è sempre quello c'è sempre ma negli anni poi sono cambiati perché negli anni 70 però sono cambiate c'è nel ricollo una dove c'è anche TDK quella che faceva le cassette music cassette ormai ovviamente inesistente questo era Milano il miracolo a Milano quel miracolo che fa sì che tutte le mattine posso anch'io raccontarvi e dirvi good morning Milano chic con le fricca le 8 e 10 minuti qui su Crystal Radio good morning Milano bentornati sugli FM 96.2 e anche sul Dub Plus in tutta Lombardia e poi ovviamente sull'app per iOS e Android lo sapete non scappate da Crystal Radio non scappate da good morning Milano diamo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi stiamo parlando di un club sì no ma non fatevi strane idee si chiama Liberty Club so che potreste farvi ancora più strane idee ma non è quello che pensate anzi è molto meglio di quello che pensate buongiorno a Umberto Scavin e Matteo Scantamburlo buongiorno entrambi buongiorno due terzi degli ostri ospiti adesso poi arriverà anche un terzo ospite appunto che ci raggiungere qua perché voi siete fondatori creatori ideatori di questo Liberty Club no? ma che cos'è questo Liberty Club chi è che me lo vuole raccontare un attimino prima poi di approfondire assolutamente grazie intanto dell'invito buongiorno a tutti Liberty Club è una rivista online che è nata nel 2020 nell'ambiente in cui noi tutti ci siamo conosciuti noi tre ma anche gli altri membri della relazione qua noi tre siamo Matteo Umberto ed Enrico e appunto eravamo compagni del liceo classico Carducci a Milano a Loreto e abbiamo preso ci siamo uniti col tempo all'idea che era nata presso altri nostri amici di fondare una rivista online di divulgazione culturale quindi qualcosa che va oltre diciamo il classico giornalino della scuola c'era anche quello e voi facciamo quasi una sorta di spin off inserto facciamo però solo divulgazione culturale anche comunque per avere continuità perché il giornalino poi quando finisce lì c'era già un'idea quindi di qualcosa di dopo a noi è sempre piaciuto scrivere e volevamo farlo mettendoci in proprio e quindi abbiamo tuttora questo questo giornale online dove scriviamo articoli relativi ai nostri interessi abbiamo le sezioni di poesia di racconti di musica arte letteratura e con questo ci proponiamo di fare una divulgazione che in parte recuperi quella vecchio stile della rivista del giornale ovviamente cartaceo che che non ti fa quali più ma sembra quasi una cosa pazzesca questa perché il vecchio stile il giornale cartaceo classe tu Matteo 2003 2003 2002 cioè sì però che noi che noi matusa noi pensiamo queste qui leggono solo tiktok non leggono i giornali e invece com'è questa cosa che avete necessità di un giornale cartaceo in mano nasce proprio da una spinta di voler fare e di voler anche rendersi un po' indipendenti dove spesso magari gente che vuole scrivere noi nostra missione è parlare con tutti cercare di diffondere di portare più collaboratori possibile e magari magari ci sono delle persone che vogliono scrivere ma non vengono pubblicate noi siamo anche uno spazio per quello per le persone che hanno delle passioni degli interessi e amano scrivere e vogliono pubblicare anche formalmente quasi e allora mi sembra che la prima passione sia proprio la vostra e allora andiamo a approfondire meglio dopo la prossima canzone perché parliamo appunto questa mattina con i ragazzi di Liberty Club e cerchiamo di capire anche poi dove lo troviamo cosa possiamo leggere se anche noi avete qualcosa a pubblicare tutti chiunque chiunque magari trovate il posto giusto in cui pubblicare adesso Justin Timberlake con DROVE DROVE Justin Timberlake 8 e 18 minuti per i più avvezzi e tecnici sentite che c'è un po' di eco eh sì è perché ci sono ben quattro microfoni aperti in questo studio mai successo perché ci ha raggiunto anche Enrico Liverani che è il terzo membro fondatore anche tu no no io ho subentrato ormai un anno fa quindi sono un membro giovane faccio la battuta da bubba hai fatto l'istituto tecnico tu per quello no 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 sembra ma non è così in realtà non ho fatto speravo perché almeno eravamo in due per quello invece niente rimango comunque in minoranza questo tavolo Enrico ben arrivato anche a te grazie so che hai sentito però da fuori quello che dicevano i tuoi compagni di viaggio tutto giusto tutto giustissimo giustissimo hanno proprio reso bene l'idea di un gruppo di giovani appassionati di scrittura e di quello di cui scrivono che intende proprio fare divulgazione culturale quindi sono stati perfetti per quello che mi riguarda ecco ecco ma io voglio capire questo appunto tutto questo è nato all'interno di un liceo poi questo liceo per fortuna mi viene da dire lo so a voi voi in realtà un anno in più lo avreste anche fatto così per divertimento giusto anche due o tre in più a voi piaceva non vergognatevi so che siamo uno di quei bulli ma non è quello al mio intento nel senso no no ci trovava bene posso dire che è invidia la mia nel senso che avrei voluto io avere questa passione già a quell'età perché voi avete aperto nel 2020 quando eravate in quarta in quarta insomma quindi uno pensa ma sono alla fine ho la maturità al prossimo anno ma che me frega invece no l'avete fatto proprio di base da quanto ho capito cioè è un lavoro appassionato che parte dalla vostra passione ma che non si ferma poi lì no anzi e tu sei la prova perché poi te l'ho raccattato la strada noi siamo la prova siamo entrati insieme ah abbiamo deciso con la nostra entrata di strutturarci un po' di più con queste nuove risorse quindi abbiamo puntato molto di più anche su fare dei contenuti magari per i social oppure su fare anche eventi dal vivo collaborazioni quindi proprio cercare di diversificare non solo articoli ma anche appunto occasioni di incontro con persone oppure contenuti video che arrivano a più persone possibili quindi aumentare l'engagement insomma esatto hai detto eventi dal vivo anche perché appunto non è solo parola scritta ma è anche conoscervi e conoscere quello di cui parlate e di cui scrivete certo certo ma ad esempio cosa abbiamo un ballo so che poi abbiamo legione forte con il territorio esatto esatto noi cerchiamo proprio di essere sul territorio infatti se possiamo dirlo domani teremo una conferenza a Milano 2 anzi la terrà Matteo principalmente perché c'è questo circolo della biblioteca di Segrate che organizza incontri culturali noi sei mesi fa abbiamo cominciato a tenere qualche conferenza ogni tanto come Libretti Club e da settembre ad ottobre andiamo a ogni conferenza che fanno intervistiamo i vari relatori alla fine ma domani il relatore sei tu domani sono io prima domanda è chi lo intervista poi alla fine noi due io per la parte videotecnica lui proprio come intervistatore faremo finta di non conoscere infatti datevi del lei e quindi dottor scantamburlo cosa domani ci racconterà dunque io in questo circolo che si chiama Sporting Club a Milano 2 mi occupo delle presentazioni per quanto riguarda il mio campo cioè l'arte e dopo degli interventi che ho fatto su Vermeer e poi sulla mostra di Cezanne Renoir che c'era stata a marzo avevo fatto l'intervento a maggio era ancora aperta domani farò l'intervento sulla mostra di Munch che è aperta ora a Milano fino a fine gennaio appunto mi tento sempre di coprire questi eventi che sono insomma le mostre di Pazzorelli di solito i punti forti della programmazione artistica di Milano e appunto sono eventi che vanno bene allo Sporting Club perché ci fanno conoscere a tante persone poi li trasmettiamo in streaming sui nostri canali Instagram e poi li carichiamo anche su YouTube e quindi sì siamo felici di questa collaborazione e speriamo di continuarla anche nei prossimi anni perché sta facendo bene da tutti sì sicuramente sì diciamo che non vogliamo siamo legati al territorio ma abbiamo anche un occhio internazionale perché la nostra appunto il quarto membro della direzione studia in America e lei studiando anche scienze politiche internazionali ci ha portato molti contenuti di rilevanza davvero internazionale abbiamo intervistato artisti cantanti da ogni parte del mondo dal Giappone al Sud America quindi è interessante perché nasce da un'identità fortemente milanese a partire dal logo ma poi ha proprio fame di espandersi hai detto logo hai detto perché ricontiamo bene com'è il vostro logo e da dove appunto viene preso dalla città di Milano assolutamente viene preso dalla bellissima la facciata della bellissima casa Galimberti in via Malpighi in Porta Venezia e da una delle maioliche in stile Liberty di quella decorazione e quindi si riprende e ci allacciamo anche al nome con cui ormai chi ci conosce ci ricorda infatti perché appunto Liberty Club è legato anche a questo Liberty però non è solo questo giusto tante accezioni questo Liberty che avete nel nome esprime anche una sorta di idea di libertà di contenuti libertà di scrittura libertà di espressione libertà di mandarci quello che volete poi noi lo leggiamo e soprattutto suona bene che è la prima cosa giustamente bisogna anche come era una volta anche l'occhio vuole la sua parte in questo caso anche l'orecchio vuole la sua parte infatti allora parliamo di musica che è quella che ci ascoltiamo adesso e poi torniamo qui perché questa cosa del mandateci quello che volete io voglio capirla bene perché qua secondo me occhio però perché poi avete una bella casella email di quelle capienti molto capiente ok perfetto allora adesso il momento di zucchero con Vedo Nero alle 8 e 24 minuti qui su Crystal Radio vi ricordo sempre 96.2 FM Dub Plus app per iOS Android anche se siete in America come la quarta componente di questo bellissimo gruppo Zucchero con Vedo Nero alle 8 e 28 minuti qui su Crystal Radio martedì 12 novembre sempre qui in diretta per raccontarvi quest'oggi il Liberty Club insieme a Umberto Matteo ed Enrico allora qui avete fatto una call un'apertura proprio delle vostre caselle email e quasi anche delle vostre case mi è da dire ah se avete qualcosa di bello è già questo però una bella disclaimer se avete qualcosa di bello mandatecelo perché funziona così giusto Liberty Club sì sì noi abbiamo un sito diciamo così diviso in varie sezioni temate quindi musica arte letteratura cinema ma prendiamo anche racconti e poesie naturalmente quindi ogni sezione ha un capo redattore in questo caso io mi occupo di cinema Matteo di arte di musica Umberto sta lavorando una nuova sezione ma è comunque la parte più di impaginazione di tecnica diciamo così ed esortiamo proprio la gente a mandarci a mandarci le loro produzioni e poi il capo redattore le legge si topone agli altri vengono fatte delle correzioni e quasi sempre devo dire viene tutto pubblicato avviene tutto anche in maniera un po' organica diciamo per il discorso iniziale che anche le persone della nostra età scrivono pochi articoli noi siamo quasi sempre in caccia di collaboratori quindi cogliamo l'opportunità magari in università di vecchie conoscenze ah ma ti va di scrivere su Liberty eccetera ma poi facciamo anche un po' di spamming su internet e sui social poi noi raccogliamo gli articoli e come funziona poi a questo punto sono cinque sezioni magari proprio arriva un articolo che non si sa bene come fa a finire dentro diciamo che proprio per come è nato Liberty ci sono stati casi in cui magari la direzione si è riunita e ha deciso che l'articolo non era dato ma diciamo che noi seguiamo la nostra cosiddetta identità Liberty che è una sorta di idea per cui di ricercare il bello di ricercare una cosa fatta bene non abbiamo limiti fissi quindi non abbiamo limiti devi scrivere almeno 30.000 3.000 parole no se un articolo suona bene viene bene noi lo accettiamo a prescindere dalla forma e se c'è la qualità una sezione si trova quindi ricordate l'identità Liberty si manifesta nel è bello vi piace sì bene è interessante perché appunto è un'identità invece spesso si parla di giornali si parla di linea editoriale in questo caso invece è proprio una identità che è molto più profonda però forse effettivamente lascia più libertà appunto in questo caso perché noi abbiamo una produzione molto molto verticale non seguiamo attualità non facciamo notizie di agenzia quindi noi cerchiamo proprio un articolo che tratti quel tema magari in un modo anche un po' diverso nel senso non la classica recensione di un film o di un disco ma quello che questo disco può significare in questa non so in questa declinazione per dire oppure le comunanze tra il dottor Jekyll e Frank Stein nel cinema proprio cose anche specifiche quindi per cui sempre una cifra con Estremo Liberty esatto mi avete stuzzicato quindi adesso sapete cosa c'è c'è la pubblicità adesso è una pubblicità mi vado a leggere un po' di vostri articoli vediamo un po' che cosa c'è su Liberty Club che ovviamente si trova anche sui social da quanto ho capito la stagione di Liberty Club vi troviamo ovunque giusto? sì assolutamente assolutamente stiamo anche lavorando al sito adesso il sito per adesso è sempre stato gestito da noi abbiamo adesso deciso di dare un taglio più professionale quindi abbiamo assunto proprio una web designer che ci impacchetterà un sito fatto e finito un po' più professionale diciamo che è la fine d'anno in cui c'è tante canne al fuoco inizio dicembre arriviamo alle feste con un nuovo Liberty questo mi sta dicendo più o meno gennaio va bene ok finiamo le feste non volevo mettervi pressione nuovo anno nuovo Liberty giusto perfetto grazie Matteo questa è la giusta chiusa per andare appunto in pubblicità e poi torniamo qui ancora a parlare di Liberty Club con Umberto Matteo ed Enrico ed ora Meghana Traynor con Mother Franco Battiato con la cura le 8 e 39 minuti è sempre difficile entrare su Franco Battiato non sai mai quando puoi permetterti di interromperlo quindi chiedo perdono al grande maestro Battiato insomma il tempo è tiranno i tempi una volta si diceva i tempi televisivi beh perché non avete idea di quelli radiofonici cosa sono diamo comunque ancora il benvenuto e il ben contento di essere qui con voi Umberto Matteo ed Enrico tre del Liberty Club tre che la sanno tutta la sanno bene anche perché insomma l'avete pensata bene questa storia secondo me cioè questa che è bella nel senso che a me continua questo talo il fatto che voi appunto siete al liceo vorrei questa idea poi incontri gente e la tiri dentro e poi una in America e voi tre qui tutti ben appassionati di quello che fate perché appunto fuori quando mi raccontavate che insomma tu Matteo sei appunto quello che segue la sezione di arte ma non perché così ti piace disegnare nel senso perché tu stai per lavorarti in il storia dell'arte ecco ad esempio Henry invece segue la lezione cinema e studia comunicazione e con anche un diritto abbastanza teso allo spettacolo Umberto che ancora non ha la sua sezione ma ci sta lavorando intensamente sta lavorando la sezione arriverà col food and wine cos'è questa sezione è una sezione che tende a spiegare a promuovere raccontare con l'identità liberty magari dei prodotti di vino cibo particolari sempre appunto seguendo un'identità una linea che poi decideremo insieme io studio scienze di beni culturali ma ho fatto il terzo livello di sommelier quindi è una mia passione anche quella perché il vino non è considerabile un bene culturale assolutamente per noi sicuramente poi il caporubrica della sezione letteratura che è un socio fondatore studia la normale di Pisa si è laureato in lettere e sta facendo la magistrale in lettere quindi sì siamo coerenti siamo legati alle nostre sezioni legati alle vostre sezioni appunto in espansione e so che avete anche un'idea di aggiungere però diciamo un altro non tanto tema quanto diciamo di riuscire a organizzare alcune storie che tu vorresti riuscire a raccogliere sì perché comunque abbiamo notato soprattutto nell'ultimo anno che oltre agli articoli sono andate per la maggiore le interviste a chi artisti musicisti creatori pensatori che hanno magari un progetto e che magari ne vogliono parlare da qualche parte dove sul Liberty quindi noi anche grazie alla nostra alla nostra direttrice che in America abbiamo fatto molte interviste proprio per mettere in contatto anche queste persone e dare visibilità anche a chi ha un piccolo progetto o sta proprio facendo qualcosa nel suo certo un esempio per esempio può essere stato quando abbiamo intervistato Città Invisibili questa pagina Instagram di cui si è parlato tanto peraltro ha fatto anche la sua prima mostra di recente sì sì l'avevamo trovata quasi per caso ma questa era una persona che si è messo a creare con l'intelligenza artificiale le città invisibili di Italo Calvino graficamente con immagini generate e ha fatto addirittura e ha avuto addirittura una parte nella mostra che hanno fatto a Roma su Calvino l'anno scorso quindi noi non lo sapevamo però poi abbiamo capito che era più grande di quello che pensassimo è esploso oppure quando appunto grazie a Francesca la nostra collega americana abbiamo intervistato Takagi Masakatsu che è un musicista giapponese molto noto che ha fatto colore del sonore per molti film importanti e che appunto ci ha dato ci ha aperto anche la strada a un pubblico più internazionale come anche altre interviste ad artisti americani questo dualismo avete dentro il spirito internazionale ma poi comunque è un legame forte con il territorio ci saranno anche forse le sorprese certo ma anche perché Milano è così del resto quindi è città con la sua storia ma anche internazionale poi forse nel 2025 a Segrati intervisteremo un premio Oscar forse non possiamo dire chi ma ci sta lavorando ci sta lavorando per avere uno di voi tre che prenderà l'Oscar così che vi intervisterete oppure se volete uno che ha già preso l'Oscar è più facile far venire uno che ha preso l'Oscar ah dice più facile nel cinema insomma ti auguro quindi fino a poi di poter essere anche te l'ho intervistato in quanto detentore di un Oscar in tutto questo ricordiamo bene però le coordinate su come fare dove trovarvi come, quando e perché quindi attualmente noi abbiamo un sito che è in lavorazione però c'è è online c'è si vede certo ed è libertyclub.eu ok semplice e pulito respiro europeo anche qui esatto e poi una pagina Instagram che è libertyclub con l'unterscord con il tertino in basso dove invece abbiamo una produzione invece di contenuti più social e più fruibile abbiamo video interviste reel e anche proprio abbiamo reel sulla città di Milano sulla Biennale di Venezia interviste eccetera è anche il modo più facile per mettersi in comunicazione con noi con i direct messages ma se no c'è anche la mail redazione.libertyclub chiocciolagmail.com dove potete mandare tutti i vostri articoli e su questo ve ne parliamo dopo la prossima canzone perché voglio capire che cosa vi è arrivato ultimamente e che cosa potremmo magari leggere appunto nei prossimi numeri nelle prossime settimane nei suoi social capire anche appunto che cosa anche per dare un consiglio a chi ci segue magari di scrivere qualcosa un po' più liberty in modo da poter essere sicuro che finisca all'interno appunto di Liberty Club loro sono The Proclaimers e questa è I'm Gonna Be 500 Miles Vi ricordo sempre per quelli un po' nerd come me che c'è un bellissimo video del non mi ricordo quale stagione di Dr. Wu dove comunque c'è tutto un dietro le quinte mentre tutto il cast compreso il bavissimo Tenent canta questa canzone comunque devo sempre dirlo se no non sono contento torniamo a Liberty Club invece Umberto Matteo Enrico abbiamo detto appunto mandateci 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 abbiamo capito più o meno che cosa può andare bene per Liberty Club cioè praticamente qualsiasi cosa bella giusto non abbiamo capito cosa per aver arrivato anche questo che voglio capire la speranza è che arrivi cosa bella ma poi nella realtà è così no beh sì ultimamente appunto essendo che stiamo rifacendo il sito stiamo spingendo soprattutto sui social con i reel le interviste dello Sporting Club però stiamo intanto accumulando i articoli per poi quando ci sarà la ripartenza e tra le cose che ci sono arrivate ultimamente c'è un racconto molto bello di una persona da Biella ma anche articoli uno di musica ne abbiamo uno di cinema ci è arrivato e poi in preparazione ci sono un articolo mio di arte e anche questo legato a Milano ma poi c'è anche un articolo che arriva da una che ha trovato un ascensore com'è sta storia qui dell'ascensore è vero è vero eravamo io e Umberto in università in via Festa del Perdono prendiamo un ascensore in quei momenti morti fondamentalmente che si crea un ascensore non c'era neanche uno specchio in cui guardassi i punti neri quella cosa lì no no in statale non c'è opaco gli ascensori anni 60 70 e quindi cosa ti viene in mente di fare? attacchiamo un bottone con questa ragazza e visto che abbiamo una mentalità aperta imprenditoriale predatoria diciamo tu scrivi qualcosa hai qualche passione dai ah si sai mi piacciono i videogiochi la musica mandaci un contenuto e ci è arrivato da poco e questa ragazza non solo ci ha seguito su Instagram quindi è riuscita a risalire alla mail perché il tempo in ascensore è poco quindi seguici su Instagram ci ha seguito ci ha messo like ci ha scritto su Instagram e poi ci ha inviato la mail redazionale un articolo molto interessante stiamo leggendo stiamo leggendo il giornalista clickbait direbbe anche il caporedattore cucca in ascensore invece no devo dire che è una bella storia è una bella storia anche perché appunto fa capire il spirito che c'è dietro cioè veramente predatoria mi è piaciuta in un certo senso quasi all'arrembaggio a volte viene da dire nel senso piratesco nel senso però del termine di vogliamo tutti tutti a bordo in un certo senso c'è posto per tutti ecco c'è posto per tutti purché ci sia della bellezza da portare lo spirito deve essere questo perché ovviamente noi ci impegniamo tanto i nostri sforzi ci sono sempre stati però per andare avanti è necessario insomma la collaborazione e l'interconnessione che in questi anni abbiamo avuto ma vogliamo avere sempre di più ecco sulla nave virare verso una direzione nostra nuovi lidi in fondo c'è il famoso numero cartaceo l'isola del tesore il dorado è il nostro grande sogno è un bel numero di carta trimestrale non lo so semestrale ma sì ah sì sì ok e scusate Beatrice mi mandava delle comunicazioni lo facciamo dopo grazie Beatrice scusatemi anche perché siamo arrivati quasi alla fine e quindi prima di salutarci ricordiamo bene tutte le coordinate per chi magari si fosse collegato solo in questo momento ma soprattutto sono capito di questo nuovo sito però in realtà non è che arriva a chissà quando è pronto praticamente pronto sì è un progetto che è iniziato a inizio dicembre ci è stato dato un tempo di un mese quindi i primi di dicembre inizio novembre sì scusi inizio novembre e quindi ai primi di dicembre avremo il sito nuovo pronto con tutte le nuove sezioni con multimediale dinamico professionale food and wine assolutamente parlando degli articoli che abbiamo in mente c'è anche quello e dicevo appunto quindi ricordiamolo bene il sito e i vostri social e anche appunto che tipo di articoli che tipo di contenuti volete ricevere le sezioni sono le sezioni sono cinema musica arte racconti letteratura e poesia e food and wine in futuro diciamo così e food and wine racconti letteratura arte poesia cinema musica e redazione che è un menù che non c'entra niente quello avevo capito e food and wine e poi le nostre coordinate sono il sito che è libertyclub.eu ok e il profilo instagram che è libertyclub trattino basso ok non si può sbagliare e la mail redazione punto libertyclub chiocciola gmail.com ok bene se c'era la quarta dovevamo trovare un altro social da dire perché sennò eravamo finiti dovevamo mettere dopo tiktok se no non sappiamo come fare non ancora ecco grazie avevo paura mi dice se lo sto facendo no questo è il boomer che c'è in me non ci mancherebbe ragazzi grazie portate saluti prima di tutto alla direttrice d'america la salutiamo anzi salutiamo come si chiama Francesca grazie Francesca ciao di tenere insieme le cose di tirare le fila e a tutto però tutto il gruppo che insomma so essere numeroso di chi partecipa one shot e chi partecipa invece giusto tutti sono importanti e menzionati ecco quindi poi sul sito trovate anche quello primo dicembre sito nuovo mi raccomando liberty club e adesso non ci resta quindi di chiedere grazie Umberto Matteo ed Enrico grazie a te Rufus grazie Rufus ascoltare la nostra sigla 8 e 54 minuti di oggi martedì 12 novembre siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano e dopo di noi lo sapete benissimo che alle 9.05 dopo il giornale radio va in onda niente popo di meno che chi lui Ambroggio Curti lo sapete no senti questa le canzoni raccontate lette intraviste approfondite tutto quello che volete far sapere nelle cinque righe del pentagramma lui ve le va a aprire nota per nota e ve le racconta con aneddoti storie appunto all'interno di senti questa le 9.05 dopo il giornale radio se invece volete riascoltare quello che è successo all'interno di Good Morning Milano c'è un sito semplicissimo goodmorning.milano.it lì trovate tutte le nostre interviste tutte le nostre rubriche ben prodotte ben confezionate dalla nostra produzione dalla nostra regia e poi potete trovare quello che ci sono oggi ma anche nelle scorse puntate oppure lo sapete Apple Podcast o Spotify le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Giuseppina Rosco di Umberto Matteo Enrico di Liberty Club e qui dietro al microfono Fabio Ranfi in regia a Ginevra grazie mille alla produzione alla regia e alla redazione anche di Beatrice grazie mille a domani ciao